Ancora Questa è il documentario Questo è il treno del deserto Buongiorno Questa è il treno del deserto Buongiorno Questa è il treno del deserto Buongiorno Ok, devo dire la batteria per il deserto Ciao ciao, a questo tempo Ancora Ok, veniamo al documentario Questo è il secondo step Il secondo giac Da Real de Cadosse A Stazione de Cadosse A il deserto Veniamo al documentario Questo è il tutorial Che portare al deserto per survivre per due giorni Questo è il regalo? Si Si, le abbiamo usato Poi che hanno bisogno di comare Cannella Cannella Perché cannella nel deserto? A fare un tè Ah, perché il tè? Si Il tè è il deserto L'arancia più importante Quante ne prendiamo? La banana La banana La banana si chiama Platano E le patate Le patate si chiamano Papa Papa Guajava 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 Il trattamente Il 50 Per il motivo Cosa Films Cosa Ci sono Il rizzotto Non mangiamo cari Non carne Ci sono i i tuoi Lavorare Ci sono i i i quarti Lavorare Lo che viene dalla No è la mia No è la mia La mia Cosa si chiama questa è? La mia La mia La mia La mia Le non ha Quanto è distante il deserto da qui? 126 km 13 km Quanto è il deserto? Il deserto del Tecolote Il deserto del Tecolote La proporzione delle... ...Los Vicioles L'acqua da qui da dove vedi? Quanti metri? 120 metri 120 mili Che gusto che mi piace l'acqua a 20-25 m No, qui è molto bene Molto! Cosa è il deserto? In Tecolote L'acqua da qui L'acqua da qui L'acqua da qui La loro cazà di tutto Il deserto è il deserto? Ma è questo? No è questo No è questo Ah buono Il documentario Vienvenoli Questo è il deserto Ido al documentari Questo è? Questo è il desierto del Tecolote per Bunga Bunga TV Vamonos Vamonos che sta piacendo porca buttare